ah caro mio caro mio caro mio caro mio eh lo so lo so lo so tu eri convinto di esserti liberato di me definitivamente invece guarda un po caro il mio cucciolo della patagonia caro il mio fringuello delle isole vergini sono tornato a molestarti con un'altra di quelle che ami tanto quelle che tu chiami marchette per la tua immensa gioia per il tuo sommo gaudio sono tornato per parlarti di questa tu roll j1 st è una bici interessante adesso te la mostro e poi ti spiego tutto dai ragazzi ci mettiamo all'ombra di questa bella quercia perché c'è la bolla africana fa caldissimissimo caldissimissimo però vabbè siamo tutti sulla stessa barca immagino allora veniamo a noi tu roll è un brand che non conoscevo è la prima volta che provo una bici della tu roll e devo dire è una bici interessante già un mesetto che ce l'ho e che la uso sia io che laura anche se su questa cosa poi ho da dirti un dettaglio che riguarda la bicicletta poi ci arriviamo j1 st questo st significa step through cioè nel senso che non ha la canna tanto è vero che non avendo la canna qui come puoi vedere è stato saldato un fazzoletto di rinforzo per dare un po di solidità in più alla bicicletta al telaio esiste anche la versione standard diciamo non st diciamo così che quindi ha anche il tubo diagonale in più questo ovviamente più agile nel salire e nello scendere te l'ho già detto in passato una volta si diceva bicicletta da uomo bicicletta da donna ormai siamo fluidi si dice step through ok abituati perché tanto la tendenza è quella ti dicevo è stato saldato un fazzoletto aggiuntivo per dare un po di solidità un po di robustezza ma ti devo dire che nonostante questa bici abbia qualche difettuccio di sicuro tra questi difetti non c'è la sensazione di poca robustezza è una bici che dà assolutamente una sensazione di solidità di robustezza non è che la senti in mano che ti cade a pezzi assolutamente no molto bella in questa finitura nero opaco ma mi pare mi pare ma potrei dire una cavolata che ci sono solo nere le biciclette di turol però potrei potrei dirti una cosa non vera comunque io le ho viste solo nero nero opaco devo dire che la finitura è molto bella almeno per i miei gusti che sai che adoro il nero questa è una bicicletta ovviamente elettrica è una e bike ti direi che è una city bike ti direi che è una trekking bike ma in verità secondo me anche se la casa madre la definisce una trekking bike secondo me siamo proprio nella via di mezzo tra una city bike e una trekking bike allora è una city bike secondo me per via del manubrio vedi com'è fatto un po' alla vecchio stile sai le bici quelle lì con i freni a bacchetta diciamo non proprio perché il manubrio non chiude totalmente però diciamo tende verso quell'impostazione di guida lì non è una vera e propria trekking bike perché sì è vero che le ruote hanno un po di tacchetti un po di tassello però non è che ci vai a fare chissà che uno sterrato leggero idem la forcella c'è una forcella te lo dico subito c'è una forcella anteriore da 80 mm di escursione è una forcellina piccolina fa quello che può quindi siamo sempre alle solite non ci vai a fare cross ovviamente ma visto la tipologia di bici l'impostazione capisci che l'indirizzo non è quello è una city bike secondo me è una city bike con in più la possibilità tipo me che sto in campagna di farci lo sterratino la strada bianca anche un pezzettino di prato due fossi secondo me questo è il suo indirizzo il suo habitat naturale parliamo della parte tecnica della bicicletta ti ho detto i bike quindi bicicletta diciamo elettrica o pedalata assistita come preferisci motore nel mozzo posteriore nel mozzo della ruota posteriore 250 watt pedalata assistita garantita fino a 25 km orari cinque livelli di pedalata assistita selezionabili dal display qui sul manubrio dalla dal controller no con i suoi tasti eccetera quando ti arriva non ha installato l'acceleratore sul manubrio ce l'hai a parte quindi se vuoi tu lo puoi installare ricordati che in italia però non lo puoi usare se non in area privata come me che qui come vedi è tutta area privata magari tu non lo sai ma questo è tutta un'area privata c'è proprio la sbarra all'inizio della strada ti dico questo perché perché ti arriva appunto senza l'acceleratore installato 250 watt di potenza 25 km orari massimo di assistenza della pedalata assistita quindi perfettamente legale così come ti arriva la monti e la puoi usare senza fisse senza fisime senza rischi soprattutto ti dicevo motorino elettrico da 250 watt e 45 newton metri di coppia che ti devo dire la verità mi ha stupito in positivo perché 250 watt sono pochi diciamo ok non è una grande potenza ma a questo spunto di coppia importante 45 newton metro lo rende un motorino assolutamente brillante che si comporta bene anche diciamo su questa salita su queste salite che io qui che hai già visto nelle altre prove negli altri test che ti assicuro sono delle salite abbastanza ripide non vai su diciamo solo con l'acceleratore senza pedalare ma quando inizia a pedalare l'assistenza si sente come è un bel motore insomma che dice la sua ti aiuta parecchio veramente interessante ho provato altre bici con motori da 250 watt ben più fiacchi di questo questo devo dire spinge bene è molto molto interessante nonostante la bicicletta sia una bicicletta discretamente pesante anche perché come vedi è una bicicletta con le ruote grandi parliamo di ruote da 27 pollici e mezzo quindi una bici importante ok come come peso ti ho detto del motore elettrico ti ho detto dalla forcella ruote da 27 e mezzo te l'ho già detto cambio shimano 7 rapporti hai una corona sola e 7 pignoni il cambio è il solito tra virgolette shimano tourney tz ti ripeto a 7 velocità la manettina del cambio ovviamente per selezionare il rapporto ce l'hai qui vicino alla manopola destra è una manopola un manettino della sempre della shimano è un sis index a me personalmente non piace a un meccanismo poco intuitivo un po plasticoso non mi fa impazzire però insomma questo c'è e questo c'è doppio freno a disco meccanico quindi a filo poi sui freni ti dico di più la forcella ti ho detto 80 mm di escursione bloccabile quello non te l'ho detto la batteria che è qui nel tubo nel tubo diagonale quindi proprio nel telaio ha una batteria da 16 ampere e mezzo e con la doppia chiave in dotazione che serve solo a smontare la batteria non serve ad accendere la bicicletta in sé con le chiavi in dotazione è veramente super facilmente estraibile la smonti e diciamo l'ingresso per l'alimentatore resta sul corpo della batteria quindi volendo metti la bici in box smonti la batteria te la porti su a casa ecco l'alimentatore ovviamente ti viene fornito nella confezione te la porti a casa e la ricarichi così la mattina dopo sei pronto per andare in ufficio al mare a fare la spesa al mercato ti ripeto motorino 250 watt batteria da 16 ampere ora e mezzo autonomia massima dichiarata ovviamente in pedalata assistita di 100 chilometri te lo dico tutte le volte te lo dico in questa volta questo dato è soggetto a mille variabili al tuo peso alle salite alle condizioni dalla strada al vento insomma mille cose però comunque questo è il dato che viene fornito dalla casa 100 chilometri massimo di autonomia cosa vuol dire vuol dire che ad andare male 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 50 60 chilometri ce li fai comunque un bel andare quindi le tue commissioni giornaliere anche due tre giorni casa ufficio eccetera le fai tranquillamente con una carica di batteria secondo me ovviamente campanellino non elettronico non c'è un bip bip elettronico c'è proprio un campanellino cavalletto laterale doppio parafanghino portapacchi qui con molla sei la molla vecchio stile tipo quelle delle nonne faretto anteriore a led e faretto posteriore a led ovviamente anche con lo stop ok quindi questa è la dotazione totale della bicicletta adesso voglio spendere due minuti a dirti cosa mi piace di questa bici cosa non mi ha convinto di questa bici dopo un mese di utilizzo perché già un mese che ce l'ho quello che mi piace l'estetica mi piace questa finitura nera opaca con i contrasti bianchi grigi insomma sono i miei colori questo mi piace anche il fatto che non abbia il tubo diciamo secondo me è una cosa comoda per l'utilizzo di questa bicicletta per quello che è il suo habitat naturale quindi tanti sali e scendi dalla bicicletta in città per fare le commissioni eccetera non è una mountain bike quindi secondo me la versione senza tubo questa st che non vuol dire senza tubo adesso che ci penso ma vuol dire step through secondo me è la versione più interessante delle due però de gustibus ok quello che mi piace è sicuramente il motorino perché motorino a 250 watt te l'ho detto ma si comporta veramente bene ha un ottimo un ottimo spunto quindi ti aiuta molto l'assistenza veramente la senti quindi quello mi piace molto che poi soprattutto questa del motore elettrico delle sue performance è una cosa fondamentale principale quindi secondo me quindi molto molto importante tra i pregi i due difetti che proprio non riesco tanto a digerire di questa bicicletta uno è un po personale che secondo me è l'impostazione adesso ti faccio vedere questa impostazione qua mi sembra un po troppo caricata sui polsi e però ti devo dire una cosa secondo me fa un po è una questione di gusto è una cosa personale quindi a me magari non piace tanto ma a te potrebbe disturbare di meno ma potrebbe anche dipendere dal fatto che il manubrio non è regolato alla perfezione perché questa qua che si chiama la pipa se non sbaglio questa qui è super regolabile in inclinazione anche il manubrio stesso ovviamente regolabile in inclinazione ma io non intendendomi molto di geometrie di biciclette l'ho lasciata come era di fabbrica e mi sembra un po tanto caricata sui polsi soprattutto quello che abbiamo notato usando anche laura che è 20 centimetri abbondanti più bassa di me io sono un 80 è che è molto scomoda se sei basso io mi trovo un pochettino scomodo cioè non mi piace tantissimo l'impostazione ma ti ripeto potrebbe essere una questione di gusto e di preferenze se sei bassino o se sei bassina questa bici esiste in una taglia sola cioè non è che esistono la m la l la s ok esiste solo con queste misure potresti trovarti un pochettino in difficoltà perché potresti essere un po troppo distesa verso il manubrio quindi questo va a discapito del comfort e anche un pochettino secondo me della sicurezza perché poi sei un po impacciata secondo me nelle manovre mi segui quello che intendo quindi questa cosa non mi ha entusiasmato ti devo dire la verità ma la cosa che proprio non riesco a digerire che secondo me è il più grande difetto di questa bicicletta asterisco potrebbe secondo me essere risolvibile ma non da me che non sono capace raga non frena niente ma niente di niente di niente né col freno di dietro né col freno davanti né con tutte e due insieme non frena niente ti ho già parlato in passato di altre bici che frenavano poco ma qui siamo a un altro livello di non frenata questa non frena un accidente tu puoi strizzare tutte e due i freni a manetta ma comunque frena pochissimissimo fai fatica a fermarti se devi inchiodare che uno davanti ti è inchiodato con la macchina rassegnati che gli entri nell'unotto posteriore c'è poco da fare però sono freni a disco meccanici quindi si regolano col filo tirando il filo regolando il filo probabilmente una regolata al filo insomma una regolata all'impianto aiuterebbe forse aiuterebbero anche due pastiglie di un altro brand magari un pelo più performanti perché queste mi sembra proprio che abbiano poco mordente altrimenti potresti pensare a sostituire le pinze e quindi anche le manette qui i freni la pompa insomma installare un impianto freni idraulico quindi con la sua pompetta e con le sue pinze che funzionano con un impianto a olio lì la questione cambierebbe di sicuro però vale la pena comunque spendi qualche cento euro non so se ne vale la pena quel punto forse conviene già orientarsi su una bicicletta che ha in dotazione già di serie un impianto frenante di quelli idraulici secondo me quindi questi sono i due difetti la posizione non mi piace molto ma potrebbe essere una questione di gusti l'impianto frenante almeno della mia poi magari quella che ti arriva a casa a te frena perfettamente magari sono stato sfortunato io però ti posso assicurare che questa che ho io proprio questa non frena un accidenti ti dico la sincera verità allora ti devo dire ancora una cosa ovviamente ti devo dire la cosa più importante quanto costa questa turoll j1 st costa 899 euro lo so lo so bene quello che stai pensando sono un mucchio di soldi sono un mucchio di soldi però se forse 899 euro un prezzo un po eccessivo per quella che è la bici in sé forse ti devo dire che spesso e volentieri sia sul sito di turoll che su amazon la trovi in super sconto sconti anche importanti anche di 200 250 euro quindi magari la trovi in offerta a 700 a 650 euro allora se la paghi 700 750 650 ovviamente da nuova secondo me allora comincia a valerne la pena è un prezzo secondo me che ci sta anche perché con 5 600 euro compri solamente di quelle biciclettine piccoline minuscole pieghevoli che sicuramente offrono meno di questa turoll j1 st che ovviamente come avrai capito io non te l'ho detto non è una bici pieghevole ovviamente così è così resta quindi visto che siamo sempre nell'orbita della vita in camper dei viaggi in camper non so se potrebbe essere la scelta giusta da portarsi dietro in camper anche perché è una bicicletta grande una bicicletta pesante e anche questa forma nel manubrio è parecchio ingombrante quindi nel garage oppure sul portabici non lo so se è la bici più adatta ti devo dire la sincera verità ti stavo dicendo la trovi spesso e volentieri in sconto anche in super sconto ma a questo eventuale sconto di questa eventuale offerta in cui ti imbatterai e se stai attento e un po di pazienza l'offerta la trovi ci aggiungi a queste offerte anche il codice sconto che ti lascio che vi lascio in descrizione sia se la vuoi comprare sul sito di tu roll sia se la vuoi comprare su amazon ti risparmi ancora qualche decina di euro che male non fa quindi magari se trovi l'offerta proprio super super nel momento giusto la vai a pagare 5 99 610 euro e allora con 600 euro ti porti a casa una bicicletta che a quel prezzo lì è sicuramente un ottimo acquisto secondo me io spero di essere stato discretamente breve di non essermi dilungato troppo allo stesso modo allo stesso tempo spero di averti detto tutto quello che c'era da dire su questa j1 st di tu roll ti ripeto un brand che non conoscevo è la prima volta che trovo una loro bici devo dire un prodottino interessante seppur non scevro mi piace scevro non scevro di qualche difettuccio qualora invece non ti avessi detto tutto e avessi qualche dubbio come sempre mi puoi scrivere nei commenti mi puoi mandare un messaggio privato mi puoi mandare una mail mi puoi telefonare tanto non ti rispondo mi puoi mandare un picciolo viaggiatore insomma un messaggio nella bottiglia quello che preferisci tu va bene allora quindi io tramite il mio display accendo qua seleziono potenza 3 mi metto in sella la bersagliera come faceva fantozzi e me ne vado bella raga ci vediamo alla prossima marchetta così sei felicissimo ciao ne grazie a tutti